ciao e benvenuto all'interno di questo primo corso di livello intermedio del laboratorio musicale varini che riguarda la chitarra elettrica per questo motivo si chiama kel int 1 chitarra elettrica intermedio 1 bene in questo video cercherò di essere veloce per illustrarti tutti gli argomenti che vedrai introdurre all'interno di questo corso come novità rispetto ai corsi che hai fatto precedentemente che in teoria dovrebbero essere base 1 2 3 a meno che tu non arrivi direttamente a questo corso intermedio dopo essere stato valutato e quindi ritenuto idoneo tu abbia capito che i requisiti minimi facevano comunque al caso tuo allora prendiamo prima di tutto questo questa sorta di indice che mi sono appuntato che cosa vedremo e vedremo prima di tutto tutti questi argomenti come su circa sei mesi perché questo corso è diviso in 20 unit appunto a differenza del base 1 2 3 che sono divisi su 12 unit e orientativamente è previsto che ogni unit sia seguita nell'arco di una settimana quindi tre mesi di lezioni per poi un mese di ripasso generale per prepararsi all'esame che viene valutato bene qui dai corsi intermedi in poi i corsi durano sei mesi e per questi sei mesi è previsto che sempre orientativamente una unit per ogni settimana duri circa cinque mesi la parte di studio fase di revisione verifiche ripasso prima dell'esame ed essere eventualmente ammessi alla livello superiore che quindi sarebbe kel int 2 allora andiamo a vedere perché le cose sono io magari mi vedrai dirai o ma comunque varini sono tanti anni che suona però si gasa un casino e quando spiega queste robe sì perché il viaggio che stai per fare all'interno della musica in compagnia della tua chitarra è secondo me un viaggio entusiasmante e dovrebbe essere così e io lo faccio da tanti anni e ogni volta che mi metto a studiare per me è un momento piacevole quindi imparerai le scale minori le scale maggiori già le conosci ci siamo lasciati nel base 3 dove a livello di teoria abbiamo imparato la scala minore bene adesso andiamo in pratica e vediamo le scale minori sulle diteggiature del gadget quindi significa che trasporremo le diteggiature delle scale minori naturali lungo tutta la tastiera e quindi a un certo punto visto che fino a questo momento ci saremo mossi soltanto all'interno di un'ottava o a seconda delle posizioni su due ottavi la posizione per esempio in forma di sol piuttosto che in forma di mi estenderemo ogni diteggiatura a tutte le note a disposizione a disposizione in quella in quella posizione ok è un discorso che è inutile che io vada a spiegarti sappi che è comunque una cosa molto importante per il tuo futuro e per la conoscenza della tastiera vedremo assolutamente le pentatoniche sono importantissime però la cosa bella delle pentatoniche che finalmente non imparerai una forma di pentatonica come magari avrai visto usare spesso un'unica forma imparerai le cinque forme della pentatonica imparerai a relazionarle con le scale diatoniche maggiori con le scale minori naturali e nelle cinque forme del gadget quindi avrai a disposizione un quadro sempre molto logico e sarà facile per te memorizzare queste cose perché se non memorizzerai una cosa saprai arrivarci con la logica perché conoscerai la tastiera perché conoscerai la teoria soprattutto se avrai seguito con grande attenzione il corso te int 1 teoria in intermedio 1 queste pentatoniche insieme alle scale poi le utilizzeremo nel prossimo corso alla fine di questo per iniziare a improvvisare cosa che per un chitarrista è molto importante dal punto di vista ritmico inseriremo la sincope la sincope la vedremo non solo dal punto di vista ritmico strettamente legato al fatto di suonare la ritmica ma come ritmica nel senso che poi le utilizzeremo anche per le per gli esercizi di lettura piuttosto che all'interno degli arpeggi vedremo i tempi composti quelli che avrai sentito nominare essere il 6 ottavi meno frequentemente il 9 ottavi 12 ottavi che sono i tempi composti che sono derivati invece dai tempi binario ternario e quaternario che abbiamo già imparato a conoscere e lavoreremo ancora sui pattern abbiamo già lavorato sui pattern ma qui andremo molto più in profondità e lavoreremo sui pattern a due e quattro note anche sulle pentatoniche quindi avremo le scale maggiori diatoniche maggiori le scale minore naturali e le pentatoniche anche in questo caso pentatoniche maggiori pentatoniche minori ma questa volta la grande novità è che suoneremo su delle basi anche per imparare poi a un certo punto a gestire lo spostamento degli accenti e quindi far diventare dei pattern che soltanto a livello estetico inizialmente ci sembravano essere degli esercizi ginnici privi di un fondamento musicale ecco che diventeranno se presi in piccole porzioni dei proprio dei pattern musicali impareremo a leggere imparerai a leggere nelle cinque posizioni del gadget troverai degli esercizi che vedranno quattro battute di lettura con la tablatura e quattro battute o quattro misure senza la tablatura bene quelle misure dovrai imparare a leggerle nelle cinque forme del gadget quindi imparerai la medesima melodia lungo tutta la tastiera quando a disposizione ci saranno due ottave lo leggerai in due ottave quindi orientativamente saranno sette le posizioni in cui leggerai la medesima melodia anche se disposta su due diverse ottave questo ti darà una sicurezza incredibile perché riuscirai a vedere delle note sapere dove possono essere trovate sulla tastiera e capire come poter eseguire eseguirle perché ricordati che la chitarra diversamente dal piano quando vedi un do e sai che il do 3 è quel do 3 noi con la chitarra lo possiamo trovare in diverse posizioni bene questo diventerà per te un esercizio importantissimo e ti diventerà abbastanza naturale essendo chitarra elettrica parleremo di power cord inizieremo metteremo il distorsore ne abbiamo già parlati realmente precedentemente in uno dei corsi base metteremo il distorsore vedremo l'armonizzazione della scala maggiore l'abbiamo vista nel reparto teoria l'armonizzazione della scala maggiore fatta con i power cord dove la grande novità sarà il power cord visto con la nota fondamentale sulla quarta corda e vedremo l'accordo diminuito che sappiamo essendo un power cord che cambierà sostanzialmente soltanto una nota perché la terza non c'è e finiremo tutti gli esercizi di tecnica razionale perché ci mancavano quelli che iniziano col dito 4 e quindi li ultimeremo ma poi faremo una cosa in più aggiungeremo gli esercizi partendo col dito 1 che spostano un dito sulla corda sotto e quindi lavoreremo tanto su pennata alternata esterna e pennata alternata interna questo è molto 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 importante impareremo a ragionare per gradi e lavoreremo sull'armonizzazione sempre io ti sto parlando della parte strumentale nella parte teorica questo ovviamente verrà sempre un attimo prima di vederlo sulla chitarra quindi a livello proprio di filosofia didattica prima acquisirai una cosa dal punto di vista teorico se sono difficoltà invece di lettura le dovrai leggere a livello di solfeggio cose del genere se hanno bisogno di essere riconosciute le vedrai in air training ed ecco che una volta assimilate interiorizzate aggiungeremo sopra la difficoltà di mettere anche le mani sullo strumento e suonarle però capirai come questo corso è stato strutturato con grande amore e passione e credo professionalità non dovrei essere io a dirlo ma ogni tanto un po tirarsela ci vuole e alla fine avrai l'esercizio in formato canzone e quello che abbiamo sempre visto non è più un segreto l'abbiamo visto alla fine dei corsi base l'esercizio in formato canzone è anche l'oggetto dell'esame più qualche altro argomento che siamo andati ad aggiungere quindi direi che questi sei mesi saranno sicuramente belli pieni perché ci sono degli esercizi che io ti spiegherò o Matteo ti spiegherà perché all'interno di questo corso siamo io e Matteo mentre Gianfilippo si occuperà di tutto il corso che invece è il CHCL il corso di chitarra classica e ti spiegheremo degli esercizi magari in 4-5 minuti ma poi il tuo lavoro a casa potrebbe essere anche di 2-3 ore come nel caso dell'esplosione nel senso delle scale quando vengono esplose da una forma a tutte e cinque quindi mi sembra di averti raccontato tutto e ti auguro quindi un fantastico percorso all'interno del corso intermedio 1 di chitarra elettrica del laboratorio musicale Varini ciao ciao